Marco Mallus, domenica la gara con la Reggiana, la prima gara fuori casa per l'Ancona. Intanto che tipo di partita sarà per voi dopo un pareggio tutto sommato positivo in casa col Savona? Sicuramente andremo ad affrontare una partita che sarà diversa da quella disputata in casa domenica dove affronteremo una squadra che sicuramente vorrà imporre il proprio gioco tra le ammure amiche e sicuramente vorrà far bella figura alla prima uscita in casa stagionale. Era speciale anche perché sei stato un grande ex della Reggiana? Sì, 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 io ho passato a Reggio tre anni, ricordo con molto piacere il primo anno in cui abbiamo vinto il campionato e con molto meno piacere gli altri due anni che ho avuto due brutti infortuni. Per tornare al presente, invece dopo le prime uscite chiedete se hai fatto di questa Ancona e del livello che troverà anche in questo campionato. Mi sono fatto un'idea che comunque come la passata stagione molte delle squadre ci affronteranno con molto rispetto soprattutto quando verranno ad Ancona. È un campionato in cui sarà importante cercare di imporre il proprio gioco soprattutto quando giocheremo in casa. Conosci l'ambiente di domenica? Che tipo di partita dovrebbe fare l'Ancona e quindi dovrete fare? Ma questo lo vedremo e lo valuteremo anche col mister, però sicuramente una partita in cui anche noi come loro cercheremo di far valere quelle che sono le nostre qualità e di imporre il nostro gioco.